ciao a tutti e benvenuti nella rubrica amici del campanaro qui raccogliamo le proposte di bellezza che molti ci hanno mandato sul sito solatelecampane.it perché non restino tra di noi ma possono essere gustate dai diversi amici che ci seguono nella presentazione di oggi tenete conto che tutte queste attività vengono registrate da casa per cui la vita di casa ha i suoi rumori e la sua vivacità per cui non escludo che qualche bambina o qualche adulto si presenti nel corso della registrazione a chieder conto di un pochino di tempo dedicato a lei ma intanto Walter chi abbiamo da presentare nella rubrica amici del campanaro oggi ma io intanto non escludo grazie fulvio intanto non escludo rumori di trapani o attrezzi di vario tipo perché anche qui a casa mia c'è un po di vivacità stamattina per via di mobili che vanno montati ma va bene così è un po la storia di questi mesi insomma e proprio dalla storia di questi mesi nasce la canzone che proponiamo è una canzone di fabio massimo aloisi che ha scritto lui appunto dedicandola ad un sacerdote padre gigio come veniva chiamato don luigi valentini un missionario che due mesi fa appunto il 4 marzo un po più di due mesi fa è tornato alla casa del padre come usiamo dire noi e il mio cuore non tacerà mai è proprio una canzone dedicata a don luigi valentini infatti vedrete apparire anche nel video che fabio massimo ha messo insieme varie opere in cui lui è stato coinvolto specialmente in brasile appunto stato però fedele fino all'ultimo nonostante la precarietà del del suo stato di salute ci dice sempre nella ridascaria fabio massimo ed è rimasto fedele a questa presenza che aveva spinto la presenza di gesù insomma che aveva spinto fino in missione in così in un posto così così lontano quindi questa è la canzone che viene proposta voce e chitarra con questo accompagnamento di immagini appunto selezionate proprio dal cantautore stesso è un po la caratteristica degli amici del campanaro proporre materiale che ci è arrivato direttamente sul sito e che appunto così come ci è arrivato proponiamo a voi con il contributo questa volta appunto non sostanziale perché non ha montato niente di giovanni assandri che normalmente monta i video che invece proponiamo o riceviamo a pezzi e di francesco lorenzi che si occupa insomma della parte tecnica dell'immissione sul sito della piattaforma e tutto quanto il resto grazie a tutti e ascoltamo insieme il mio cuore non non tacerà mai ciao ciao sono certo che da sempre tu sia è già dentro di me è che voglio guardarti voglio ascoltarti voglio ascoltarti voglio parlarti come tu fai con me voglio abbracciarti voglio toccarti voglio amarti come tu fai con me perché il mio cuore non tacerà mai il mio cuore non tacerà mai perché sei dentro di me mi hai donato tua madre una casa di tanti amici per ricordarti io non posso fare a meno di te che io posso guardarti che io posso ascoltarti che io posso ascoltarti che io posso parlarti come tu fai con me posso abbracciarti posso abbracciarti posso abbracciarti posso abbracciarti possa toccarti posso amarti come tu fai con me Perché il mio cuore non lo faccerà mai, il mio cuore non lo faccerà mai, perché sei dentro di te. Desidero abbracciare ogni cosa che tu riservi per me, è lì che misteriosamente mi ritrovo con te. Io voglio guardarti, io voglio ascoltarti, io voglio parlarti come tu fai con me. Voglio abbracciarti, voglio toccarti, voglio amarti come tu fai con me. Il mio cuore non lo faccerà mai, il mio cuore non lo faccerà mai, il mio cuore non lo faccerà mai. Grazie a tutti.